Crutch Mindset! Benvenuti cari amici del canale DumpaTragby! Ieri mi ha fatto morire durante la live un un amico del canale un un membro della community che si guardava la partita con con noi live che mi ha detto caspita quando sento Crutch Mindset dell'arbitro in campo mi viene in mente spontaneamente. Benvenuti cari amici del canale DumpaTragby! Fantastico! Ciao ragazzi, ciao ragazzi! Sì, sono sorridente però regbisticamente ieri c'è stato poco da sorridere, c'è obiettivamente poco da sorridere anche per quello che sta succedendo nel nostro amatissimo mondo dove 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 siamo ospitati però cercherò di di parlare il meno possibile nei miei video della situazione geopolitica magari qualche cosa qualche cosa in futuro lo faremo però insomma direi che sono sono e immagino che siamo discretamente preoccupati per l'escalation di quello che sta succedendo in in Ucraina. Allora torniamo torniamo al rugby qualcuno diceva lo sport questa è una frase che forse era ditata al calcio però diceva io l'ampio a tutto lo sport lo sport è la cosa più importante tra quelle non importanti ok adesso in questi in questi giorni ce ne rendiamo conto e ogni tanto magari utilizziamolo anche così per per distrarci un po no e per non dimenticare la la quotidianità in un momento dove dove la quotidianità ogni tanto sembra scapparci via di mano no perché magari abbiamo la testa da altre parti comunque non siamo troppo filosofici torniamo torniamo sulla nostra palla ovale e non lo so sto un po prendendo tempo perché mi viene mi viene male dire che treviso ieri ha perso diciassette a sessantuno 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 sono veramente tanti punti presi sono veramente tanti punti presi e ieri abbiamo fatto la live c'era un momento in cui facevo quasi fatica ad andare avanti perché purtroppo devo dire la verità ieri treviso è stata una delusione nel contesto nel contesto è ovvio mi dirà sì ma c'erano i ragazzi giovani c'erano le seconde terze scelte c'erano questi c'erano quelli d'accordissimo è ovvio di fatto è stata una delusione nel contesto era la terza partita di una serie complicata dove eravamo appunto senza i nazionali in più ci sono ci sono c'erano molti infortunati però io ho detto la settimana scorsa che ad esempio l'ultima partita delle zebbre era stata eh desolante per il a differenza di delle ultime di treviso dove aveva treviso aveva sì perso però aveva combattuto aveva giocato con con molta voglia e si stavano venendo dei progressi eh difensivi ieri secondo me abbiamo fatto tre passi indietro perché poi si dice sempre che la forza di una squadra è caratterizzata dal suo anello più debole e e ci sono state delle cose preoccupanti perché ovviamente ieri abbiamo messo in campo il nostro anello più debole però eh ci sono state delle cose di eh struttura attitudine mentale eh dinamiche eccetera eccetera eh su cui bisogna tanto lavorare e qui e e e questi sono dei pattern che dovrebbero venire eh assunti in maniera abbastanza orizzontale da tutto l'organico no? Cioè ad esempio il voler avere un senso di urgenza quando si gioca è un qualcosa che teoricamente non può valere solamente per i primi quindici cioè deve essere una caratteristica eh di di tutti i quarantacinque cinquanta quello che sono i giocatori dell'organico e difatti secondo me l'Einster ci ha battuto proprio su questo cioè l'Einster ci ha battuto sul fatto che eh gli standard ovviamente con di di differenti differenti eh livelli di performance ma gli standard il ehm le fondamenta del gioco dell'Einster che poi si riflette anche sull'Irlanda si sta ris riscontrando anche nelle seconde e terze scelte perché anche il l'Einster giocava con le seconde e terze scelte ehm eravamo paritari da questo punto di vista la nazionale irlandese è è fatta eh per per grandissima parte dai giocatori dell'Einster così come la nazionale italiana i giocatori del Benetton quindi non possiamo andare a cercare andare a cercare questo alibi poi qualcuno ieri mi ha detto sì però guarda che Treviso c'è un sacco di giocatori giovani in campo sì ieri un po' meno perché comunque io poi riguardandomi riguardandomi la formazione eh vedo che ad esempio Zani sicuramente non è un giocatore giovane Els non è un giocatore giovane Ciapparo non è un giocatore giovane la prima linea che io pensavo avrebbe potuto resistere a quella dell'Einster invece è stata messa in difficoltà sicuramente non era fatta di giovani poi è vero c'era Piantella però a fianco a lui ci aveva Wegener eh c'era nomeggiato e cannone certo però a fianco a loro c'era Lafi ehm c'era Garbisi che era giovane mh a fianco a lui nella cerniera Ciave Valborno che anche lui è giovane non ce lo dimentichiamo però non è di primissimo pelo anche se è arrivato da poco al professionismo a ventiquattro anni Rino Smith eh Riera Sperandio Cozzi eh tutti i giocatori insomma che 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 già già maturi poi è vero in mezzo a questi c'era appunto Garbisi Meggiatto e Drago però non c'erano non è che andavamo in campo con una formazione di under 20 eh forse l'età media è più bassa addirittura nella nazionale che in questa eh squadra che abbiamo messo ieri in campo e mh e l'età media forse era addirittura più bassa eh nel Leinster che nel Benetton non lo so bisognerebbe andare a controllare però però siamo lì poi ci sono dei giocatori che alzano alzano l'età media clamorosamente nel nel Leinster ma anche nel Benetton quindi sarebbe interessante andarlo a vedere mi è venuta in mente adesso sta cosa se non l'avrei fatto e e che cosa succede succede che Treviso ieri eh manca già dall'inizio onestamente Bortolami l'ha detto in conferenza stampa ci sono stati superiori in tutti gli aspetti del gioco e e io voglio sottolineare una cosa che si è vista al primo dopo dopo cinque minuti quando ci fanno la prima metà adesso io ho visto nella live quindi senza commento la partita però dopo me la sono rivista stamattina difatti anche per questo che sono un po' in ritardo con il video eh il telecronista inglese la prima cosa che dice dopo tre minuti è Leinster have option everywhere Leinster ha opzioni ovunque ehm ed eravamo al quarto minuto eh e ha opzioni ovunque sia per la struttura di Leinster per come riuscivano ad avanzare eh e ad anticipare sia per un Treviso che era sempre 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 in rincorsa e e ci sono dei momenti abbastanza particolari ossia Treviso eh che ha giocato una partita a un ritmo secondo me bassissimo in tutto quello che è eh il il riposizionamento ossia lenti nel rialzarsi spesso e volentieri abbiamo difeso molto ovviamente perché Leinster aveva molto il pallone però non avevamo urgenza non avevamo urgenza di difendere eravamo spesso molto lenti nel rialzarci lenti nel fare il fold eh ogni volta che c'era un break se voi andate a rivedervi la partita vedete che ci sono tutti i giocatori di Treviso che vanno al piccolo trotto quindi è mancata secondo me ieri assolutamente quest'urgenza quindi secondo me dove deve lavorare tra l'altro questa è una cosa che si era vista anche nelle partite precedenti l'avevamo commentato molto soprattutto nelle situazioni di gioco rotto e e che si vede anche in nazionale quindi secondo me eh il il cambio mentale che deve fare l'Italia eh e il rugby italiano e il Benetton è assolutamente quello di giocare con urgenza cioè non può essere che ogni volta che passiamo da una fase a un'altra andiamo andiamo passeggiando ci sono dei momenti in cui si vedono proprio i giocatori che si muovono così vorrei utilizzare un termine che che non vorrei che risulti offensivo eh che che pascolano che pascolano da una racca all'altra addirittura con la testa bassa e andando nemmeno al piccolo trotto avete presente quando l'insegnante di di educazione fisica vi faceva fare il giro di campo per punizione ecco ogni tanto ci muoviamo da una fase all'altra con quella voglia lì cioè con quella voglia lì strascinando i piedi e questo non solo attenzione eh a fine tempo quando eravamo cotti quando eravamo ehm ormai ormai fisicamente eh molto molto provati ma anche per dire all'inizio del secondo tempo anche per dire dopo lunghe pause per eh per fasi statiche quindi teoricamente eh dopo aver potuto riprendere il respiro ecco questo discorso dell'urgenza secondo me è molto 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 importante bisogna molto lavorare sull'urgenza a Treviso manca l'urgenza manca alla nazionale italiana manca ovviamente alle zebre tra l'altro tra eh due ore e mezza andranno in campo con gli ospreis dopo andiamo a leggere le formazioni ehm e allora cosa succede che eh poi quando tu sei sempre di rincorsa questo l'abbiamo già detto tante volte perché perché non cerchi di anticipare allora dopo nel momento della difficoltà cosa fai? Compensi con l'affanno compensi con l'affanno quindi noi passiamo da delle situazioni di eh sonno dove non abbiamo la velocità mentale fisica di anticipare poi siamo un po' pigri nel muoverci ripeto anche difensivamente ma anche in attacco c'è un momento nel eh nel secondo tempo quando ci danno quel calcio quel calcio libero che decidiamo di giocarlo veloce che se voi guardate tutti gli altri giocatori eccetto quelli vicini a eh credo che sia lì eh Alborno che lo gioca veloce non mi vorrei sbagliare ma tutti gli altri giocatori dietro veramente molto molto poco reattivi e allora poi cosa succede che compensiamo con l'affanno ossia nel momento in cui accade qualcosa realmente rilevante quindi ci fanno un buco eccetera eccetera eh ci affanniamo il fatto di affannarci cosa cosa implica implica indisciplina implica che saliamo probabilmente in fuorigioco spesso e volentieri implica che ehm che che non riusciamo ad avere una chiarezza di quali sono i nostri ruoli difensivi perché nel momento in cui tu arrivi all'ultimo momento il pallone è già uscito quindi non hai nemmeno il tempo per pensare ma io sono il placatore sono l'interno sono l'esterno eh per comunicare per sistemare bene la difesa quindi compensiamo questa questa lentezza che poi magari è data anche da dai i ricorsi che abbiamo in mano dal mi viene la parola spagnola herramienta no dai tools che abbiamo che abbiamo in mano dagli strumenti che abbiamo in mano quindi compensiamo questa mancanza tecnica collettiva e questa non la voglio chiamare pigrizia ma questo poco poca urgenza molto poca urgenza ieri con la fanno e e questo il risultato è una frittata il risultato è un 61 a 17 quindi quando Bortolami dice c'è da lavorare su tante cose secondo me una delle prime cose su cui su cui c'è da lavorare è assolutamente questa e e e allora che cosa si può fare che cosa si dovrebbe fare in questa situazione quantomeno provare ad ancorarsi alle cose semplici no e cosa sono le cose semplici le cose dove si può lavorare da fermi quindi le fase statiche con calma e lì invece anche lì ieri siamo stati deficitari perché calci di punizione dove invece di guadagnare un buon vantaggio territoriale guadagniamo molto meno rispetto al allo standard in quella situazione rimessa laterale che non funziona tush moll ieri siamo stati devastati moll allora la nostra moll offensiva non ci provavamo nemmeno perché non avevamo proprio ripeto gli strumenti e la moll difensiva ieri veramente una tragedia ci hanno fatto credo tre o quattro mete di moll ma non è che ce le fanno dopo un dopo una lotta in moll dopo un minimo di resistenza no 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 cioè tirata giù la tush e via ma così no così è veramente complicato giocare a rugby perché se ogni volta che c'è una tush nei nostri 22 ci fanno una metà di moll così semplicemente è difficile giocare a rugby in più noi non ce l'abbiamo in attacco quindi c'è un momento ad esempio alla fine del della partita dove decidiamo di giocare eh alla mano un calcio di punizione nei cinque perché semplicemente perché non avevamo strumenti per fare nient'altro ossia eh all'inizio pensano di chiamare la mischia poi dicono no aspetta che ci stanno mettendo ben sotto in mischia quindi chiamare la mischia non ha senso eh dicono vabbè allora andiamo in rimessa laterale no aspetta perché qui comunque la tush non funziona la moll nemmeno a parlarne allora dicono vabbè allora giochiamo alla mano però perché giocano alla mano in quella situazione tu giochi alla mano solamente in due casi o quando hai un vantaggio così evidente che non vale nemmeno la pena di andare a mettere in dubbio il possesso con una mischia o con una o con un tush moll ehm oppure quando non hai nessun altro tipo di eh di strumento di ricorso e questo è quello che succede a Treviso di fatti dopo 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 tre quattro fasi perdiamo il pallone e glielo riconsegniamo glielo riconsegniamo in mano quindi lavorare tanto lavorare sull'urgenza lavorare sul sulle fasi statiche tra l'altro il discorso della molle era un problema anche dell'anno scorso io credo che un un tecnico adesso mi permetto di dirlo so che lo saprà benissimo ma un tecnico come Bortolami eh che è riconosciuto come quando era in campo ma insomma eh riconosciuto come un maestro della rimessa laterale e della molle eh beh forse è arrivato il momento di mettercisi a lavorare seriamente perché ripeto nel rugby moderno senza tush moll vai veramente poco poco lontano e avendo quasi solo tush moll puoi andare invece abbastanza cioè almeno guardiamo il Gloucester quest'anno hanno un tush moll incredibile e con una squadra che non ha un gioco così incredibile a livello collettivo però sono lì che riescono a giocarsi i primi posti i primi posti del della Premiership ehm poi eh vabbè l'ho detto più o meno tutto mi ero segnato anche le situazioni di meta con la prima meta arriviamo affogati dopo cinque minuti quindi forse c'è anche un discorso di preparazione eh fisico atletica ma anche mentale perché dopo cinque minuti si puoi avere la prima respirazione però insomma non dovresti arrivare così affogato poi ci fanno una seconda eh meta al ventiduesimo dove ehm dove veramente ci distruggono in moll e poi la terza dove si rompe la partita eh ci fanno una meta da tush che anche qui se ve l'ha andata a rivedere eh io tra l'altro volevo fare un esperimento perché avevo o o o gli highlights della partita ho visto che sono usciti gli highlights della partita teoricamente su youtube le reazioni avevo un po' di dubbi sul copyright ma teoricamente le reazioni si possono fare su youtube ci sono un sacco di canali che lo fanno e allora proviamo a vedere se me lo tirano giù me lo tirano giù vediamo proviamo a vedere questa cosa qui proviamo a vedere assieme sta partita un attimo allora eccoci qua bam ci siamo faccio faccio andare la partita aspetta che qua mi sto facendo vedere tutti i tutti i miei tools allora full screen faccio andare la partita e vediamo vediamo un po' il vediamo un po' se senza l'audio magari rivedere un po' questa partita eh guardiamola assieme facciamo un video di reazioni teoricamente teoricamente permesso ci sono un sacco di canali che lo fanno anche sull'MBA eccetera ecco questa è la prima meta che ci arriva dove appunto arriviamo qui affogati 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 e lo vedete che in maniera abbastanza semplice riescono a farci la meta poi qua c'è la seconda meta treviso ha fatto una punizione eh precedentemente dove anche lì quasi due volte perdevamo il processo in attacco tirando un paio di palloni all'ortiche e guardate qui la facilità con la quale entra questa molle vedete treviso decide di non saltare nemmeno palla recuperata in alto la decisione di non saltare nemmeno ci sta se poi però fai un po di opposizione perché sennò tante vale provare a rubargliela no e invece quindi anche dal punto di vista strategico e invece che cosa succede guardate bam 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 proprio zero resistenza veramente preoccupante sta cosa qui è veramente preoccupante eccola qua bam meta ok andiamo un po' avanti qua c'è la seconda meta qua vi volevo far vedere anche un'altra cosa guardate come questa palla viene portata fuori ok pam viene portata fuori loro come sempre diciamo abbiamo detto hanno tante opzioni l'apertura la gioca dietro alla irlandese questa giocata la rivediamo con l'irlanda con sexton ma anche con carberry eh veramente moltissimo treviso qui esce un po' troppo forte restiamo indietro poi danno la palla l'armor l'armor si rende conto di avere un mismatch di velocità gli viene indicato anche dall'estremo e batte quello che se non sbaglio è riera però c'è una cosa che mi lascia molto molto perplesso qui teoricamente è un duello proprio di velocità giustamente sperandio difende fuori però cosa succede guardate quando l'armor batte treviso guardate riera eh ma si ferma proprio ma perché ti fermi cioè teoricamente qui eh tu devi comunque andare a a chiudere l'interno eh per anche per levargli quei tre metri della trasformazione eravamo solamente sul 14 a 3 impedirli che vada che vada sotto i pali invece si ferma riera si ferma con yourself e quindi cosa succede guarda lui va sotto i pali tranquillamente ma si poteva almeno impedirli che vada sotto i pali no e quindi questo ragionamento è proprio perché è un click mentale questo di treviso cioè dobbiamo avere l'urgenza non possiamo permetterci al ventisettesimo in casa 14 a 3 di fermarci di fermarci perché perdiamo un duello un duello uno contro uno tra l'altro non venivamo venivamo da una fase statica non venivamo da 17 fasi dove eravamo tutti affogati eccetera eccetera quindi secondo me su questa cosa brutolami ci deve assolutamente lavorare ci deve assolutamente lavorare stiamo un po' avanti qua eravamo già sul sul 21 a 3 c'è l'ultima meta l'ultima meta che ci fanno ecco l'altra grande difficoltà di treviso è stato il riuscire ad avanzare mentre l'einster aveva mille opzioni come appunto giustamente dicevano i telecronisti i telecronisti inglesi mille opzioni option anywhere invece treviso faceva fatica ad avanzare altra meta di mall molto molto semplice altra meta di mall molto molto semplice nel secondo tempo previso con il pallone che prova ad avanzare qui c'è la meta di piantella che secondo me era era irregolare però l'arbitro dice che era piccolo libero adesso qualche arbitro che ascolta mi correga ma la regola in teoria è cambiata no cioè adesso basta un giocatore non servono più due giocatori sopra il portatore di pallone per formare una rack ma basta basta un giocatore che si che si aggrappa al portatore del pallone a terra perché ci sia una racca e quindi piantella teoricamente non aveva il diritto avendo un piede davanti anzi avendo gli addirittura tutti e due due piedi davanti al pallone non aveva il diritto di prendere e alzare quel pallone e andare a far meta comunque l'arbitro white house è un po' particolare è un po' particolare però magari aveva ragione lui se riuscite a delucidarmi su questo aspetto regolamentare mi farebbe mi farebbe molto molto piacere quindi questa la meta del benetton altra meta clamorosa in moll vedete come come treviso fondamentalmente non ci prova neanche a difendere qui di nuovo non saltiamo ma perché non saltiamo se poi non abbiamo le armi per provare almeno a difendere almeno salta magari una volta gliela porti via tanto la metà te la fanno lo stesso no quindi altra meta veramente imbarazzante presa dalla dalla moll difensiva di treviso guardate quante opzioni c'ha l'inster dietro guardate quante opzioni ha tutta la squadra schierata e hanno una serie di opzioni incredibili giocano sullo stretto però questo per avere tante opzioni e poi quando giocano dietro andare ad allargarsi e ovviamente qui le trovano le opzioni bella questa metà che ci fanno le insta guardate palla al playmaker che salta il primo ricevitore trova un buco dentro lo spazio isa è in ritardo qua siamo in ritardo dobbiamo andare a placare alle gambe e allora cosa succede che restano le manoli le mani libere e c'è l'inserimento dell'estremo e c'è la metà vabbè però qui diciamo eravamo 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 già in difficoltà no eravamo già in estrema difficoltà altra meta presa di nuovo non saltiamo non saltiamo per difendere la moll non saltiamo per difendere la moll però la moll non la difendiamo mai quindi io continuo a dire tanto vale saltare lì perché guardate veramente è imbarazzante come difendiamo questa morte imbarazzante come difendiamo questa morte vabbè c'è c'è poco c'è poco da vedere credo che il il succo il succo del discorso il succo del discorso si sia visto e venga e venga abbastanza chiaro quindi insomma da lavorare da lavorare tanto su tutte le fasi del gioco perché tutte le cose buone che si erano dette sul benetton la partita con il l'inster le dà il giusto peso le dà il giusto peso è una doccia fredda è una doccia fredda l'ha detto anche ieri bortolami in conferenza stampa utilizzato un'altra espressione inglese non mi ricordo comunque insomma il il morale della favola è che assolutamente una doccia fredda quella che si è presa treviso va detto che una partita sola non fa testo però anche nelle partite precedenti c'erano stati delle cose che ci facevano accendere dei campanelli di allarme ok è stata eroica diciamo la difesa con 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 gli sharks però anche lì comunque si è perso e di tanto e iniziamo a non entrare in questo loop della nazionale italiana perché sarebbe sarebbe veramente complicato se tutto il rugby italiano entrasse in questo loop a proposito di nazionale italiana e di rugby italiano giocano fra poco le zebbre giocano alle tre del pomeriggio ok e le zebbre vanno in campo con la seguente formazione buonfiglio ceciliani bello michel zambonin andreani bianchi giammarioli casilio rizzi tuivaca lucchin cronge donofrio trulla in panchina ribaldi lovotti neculai stoian fox matumao palazzani comale laloifi non c'è canna non c'è canna e tra l'altro le zebbre si sono addirittura esposte in settimana perché in un thread su facebook a qualcuno che gli chiedeva ma che fine ha fatto canna simpaticamente chiedeva ma si è preso pugni con l'allenatore o cosa allora le zebbre sono no no anzi dal live stesso è entrato credo se non sbaglio e no o era un thread sulla pagina di dal live non lo so comunque insomma hanno risposto hanno detto no no canna sta benissimo è una scelta tecnica una scelta tecnica in questo momento non lo so io credo che un giocatore come carlo canna presi male come siamo a livello italiano almeno farlo giocare con le zebbre che non hanno più niente da chiedere sarebbe quantomeno opportuno allora o dicono le cose veramente come stanno oppure se mi dicono che preferiamo far giocare o mulli rispetto a carlo canna nel progetto zebra insomma c'è qualcosa che non quadra e c'è qualcosa che non quadra addirittura non convocarlo insomma perché poi le zebbre sono una franchigia federale gli ospreis risponderanno con smith perry bota davis davis si in galle si chiamano tutti o davis o o qual è l'altro o williams o evans ma devi stanti eh o jones 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 ci sono tanti jones lidiate morris roots web ecco ce n'è uno difatti miler morgan williams collins gills evans eccolo qua eh baldwin jones eh non ci poteva non essere un jones eh reese griffiths davis morgan williams quindi si chiamano morgan e williams e poi c'è chi si chiama morgan williams thomas willer e poltro ragazzi la metto sul ridere perché qua c'è c'è veramente poco da ridere vi mando un abbraccio grande vediamo adesso come mi gira un po il la cosa e se faccio la live anche delle zebbre se la faccio è probabile che abbia un un po un ritardo un di lì di lei abbastanza grosso nel nell'immagine eh però vabbè vediamo dai magari se 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 mi scrivete qua sotto nei commenti che a qualcuno fa piacere avere la live anche delle zebbre la faccio dai eh se invece nessuno ecco challenge mancano due ore alle partite se ci se ci sono almeno ehm no almeno una persona che mi dice io se fai la live ci sono faccio la live va bene alle 3 meno 10 vedo se c'è questo commento e se no non la faccio ragazzi fischio finale un bacio grandissimo iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale pigroni che facciamo crescere un po questo progetto vi auguro una buona domenica un buon pranzo e ditemi se mi volete vedere nella live con le zebbre ciao